ciao ragazzi benvenuti o bentornati nel mio canale allora questo in realtà è stato un video che mi è stato chiesto e quindi ho deciso appunto di fare questo video questo video su richiesta perché come sapete faccio anche video su richiesta e ci sono statuti mi ha detto ma tu durante la quarantena come passi il tempo che hai fatto durante questi due mesi che non si può uscire di casa premetto che io da quando ci sta questa quarantena sono uscita pochissime volte e sempre per motivi diciamo validi come far la spesa o portare la buonanima del mio cane dal veterinario anche se purtroppo l'esito non è stato positivo e voi lo sapete detto questo vi dico come ho passato diciamo questi giorni senza annoiarmi perché purtroppo le persone tendono ad annoiarsi cioè uno è abituato a stare in giro sempre di corsa sempre di corsa di colpo ritrovarsi a casa diciamo che all'inizio io neanche mi ci ritrovavo allora una delle cose che ho fatto infatti sono usciti anche di video e la ginnastica la ginnastica perché io penso che non esiste quarantena che tenga che mi possa tener distante da questa passione c'è anche se io non posso andare ad allenarmi come facevo prima all'aperto io mi dispiace ma la ginnastica la devo fare perché altrimenti non vivo più un'altra cosa è stata quella di ascoltare musica di solito quando faccio ginnastica ritmica metto un po di musica per cercare appunto di fare esercizi a tempo diciamo così e poi vabbè non lo so la musica ma è rilassata terza cosa che ho fatto è stato quello di pulire casa ma non pulire tipo le classiche pulizie che si fanno tutti i tanti giorni c'è proprio pulire anche quell'angolino che magari non era stato fatto dal millen novecento ottanta c'è proprio pulire ma proprio fenomenale siamo aperte perché comunque tu non sai che devi fa quindi alla fine te li invendi le cose un'altra cosa che ho fatto per farmi basta il tempo quello di vedere serie animate di quando diciamo la quelle della mia generazione erano piccoli quindi diciamo io mi ricordo ancora molta nostalgia quando tornavo a casa da scuola facevo tipo l'elementario le medie e ci stavano tutti quei bei cartoni animati in televisione proprio e io mostro passando il tempo anche così quinta cosa disegno non pittura non pittura per il semplice fatto che io ho detto ho detto diciamo finché non riaprono i negozi meglio che non spreco il materiale perché se poi si finisce non so dove andare a comprare almeno il disegno devo soltanto prendere la matita e disegnare così ma non mi servono i colori quindi lascio perdere la pittura per ora cioè io diciamo che questa quarantena a me personalmente mi ha lasciato il panico tipo non posso usare quello perché se poi si finisce non so dove andarlo a comprare tipo oddio devo starmi attenta alla perché se mi si rompe questo dio dopo dove vado a comprare qua sta tutto chiuso panico da quarantina panico più che normale un'altra cosa voi mi avete visto farlo sul canale è quello di mettermi a cucinare fare diverse ricette di dolci soprattutto con la pasta frolla e ormai vabbè con la pasta frolla ormai la soffa cura d'occhi chiudi perché ne ho fatti talmente tante ricette con la pasta frolla che proprio cestini crostata poi poi non mi ricordo più che altre cose comunque però non tutte ho messo sul canale perché spesse volte mi mi sono trovata a fare diverse ricette tutte lo stesso giorno ma il telefono la memoria del telefono era piena quindi dovevo scegliere quale ricetta registrare e mettere quindi lasciamo perdere infatti spero di continuare con la rubrica diciamo dove faccio i dolci dove faccio anche altre altri tipi di ricette e metterle appunto sul canale ci io vorrei continuare con questa rubrica ma anche dopo che finisce la quarantena c'è anche dopo che torneremo alla normalità però la normalità si inizia tra virgolette non è proprio normalità dal 4 maggio però sinceramente io spero che noi italiani tutti quanti perché mi immagino dopo due mesi che tu stai così in casa subito vuoi uscire vuoi andare al mare in montagna però lo spero che tutti noi ci dobbiamo impegnare a fare queste cose però con un ritmo diverso non dico di no però magari uno per farla breve l'ultima volta che su uscita era proprio il giorno del mio compleanno mo ve lo devo proprio dire perché praticamente arrivava un signore che doveva prendere il corpo del cane praticamente perché noi non potevamo andare diciamo a seppellirlo quindi ci hanno dovuto venta loro e praticamente io ho visto un un ragazzo che stava tranquillamente in bicicletta a mezzo alla strada cioè le macchine c'era questa bicicletta con questo ragazzo sopra senza guanti e senza mascherina giusto il classico esempio che potevo farvi vabbè comunque non mi voglio allungare più di tanto perché questo video era un video diciamo su come io passo la quarantena quindi non mi va di se a parlare di quello che fanno gli altri se escono se non escono perché altrimenti poi il senso del video cambia dovrei mettere un altro titolo e non va bene quindi per oggi è tutto e ci rivediamo prossimo video ciao ragazzi